Siamo qui con il nuovo Samsung S8500 Wave, primo smartphone di Samsung basato sul sistema operativo sviluppato dalla stessa Samsung Bada, sistema operativo che ricorda per certi versi un incrocio tra Android e iPhone OS. Come possiamo vedere infatti la schermata principale è divisa in una serie di home page tra cui è possibile scorrere e a cui è possibile aggiungere una serie di widget personalizzati. Se accediamo invece al menu delle applicazioni possiamo notare che in questo caso il dispositivo richiama molto l'impostazione di Apple. Come vediamo il touchscreen è molto responsivo, estremamente fluido, è un modello Super AMOLED quindi OLED e come possiamo notare dal nero, perfettamente nero. Tra le novità se apriamo l'applicazione per il telefono troviamo un pulsante per effettuare videochiamate e in effetti nell'angolo in alto a destra possiamo notare una piccola videocamera frontale. La videocamera chiaramente è presente anche sul retro, corredata di flash, mentre nella parte superiore troviamo un jack da 3,5 mm per le cuffie e una presa USB che in questo momento è nascosta dallo sportellino standard micro USB per il caricabatterie e per il collegamento dati al computer. Sul fondo non troviamo nulla, al di là del microfono mentre sui due lati abbiamo il pulsante di scatto per la fotocamera i pulsanti per regolare il volume e un altro pulsante che in questo momento non sappiamo bene cos'è. Come possiamo notare il telefono è estremamente sottile, molto ben costruito e come possiamo vedere chiaramente ha anche l'accelerometro per inclinare il display a seconda di come ruotiamo il telefono.